Io dopo le decisioni di cui sono stato protagonista lo scorso anno avrei veramente tantissimo da dire che lascio perdere. Io non metto in discussione il lavoro dell'arbitro perché non sono competente, però credo che come noi dobbiamo portare rispetto anche loro, non tanto per l'atteggiamento che hanno sul campo perché l'errore ci può stare, ma per il rispetto anche per il nostro lavoro. Sì, il primo tempo loro, il secondo tempo noi e la differenza l'ha fatta l'episodio e ci è andata bene a Brescia, ci è andata bene a Vicenza, abbiamo meritato, abbiamo mostrato i denti in altre occasioni, oggi purtroppo non ci è riuscito, è un piccolo passo indietro che però ci deve dare la spinta per andare a Latina e fare una grande prestazione con grandissima umiltà.